Ragazzi... Io sono... Stordito. Lo sto tenendo con la mano il cazzo. Non è cambiato nulla. Una merda. E' l'ANA. E' la stessa. No! 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 Non è così! Aspetta! Hai sbagliato! Aspetta! Hai sbagliato! Ci sono rimasto male! 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 Ma perché? Che cazzo gli costava dire? Oh soul! Ho anima di Elan! Io e di Elan! Trombiamo selvaggiamente! Figota! Pelle d'oca! Sei contentissima! Figota! Pelle d'oca! L'ho pensato! Bello! Ah! Che di... Io non so se fare l'anima della scoperta 2. Possiamo farla! Ma io volevo farlo con... E' la... No! Con... Il nodo al cazzo! No! 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 Non è così! Aspetta! Hai sbagliato! Aspetta! Hai sbagliato! No! 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 Non è così! Aspetta! Hai sbagliato! Aspetta! Hai sbagliato! Ci sono fatto male! 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 L'anello del... Cazzo di re! Dice questo! Da! Il ciclo si ripeti! Per! Vedremo! Non ho intenzione di stuprarla! Nel modo... Welcome! Welcome! Dai 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 dai! Cos'è? Uuuu! Che santa! Ehm! Un po' santa! Questa! Questa!